Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi del PlayStation Experience che si terrà il 6 e il 7 dicembre a Las Vegas. Si tratterà di un evento organizzato da Sony dedicato esclusivamente alle community, anche se la stampa avrà la possibilità di vedere gli stessi contenuti qualche giorno prima in un'altra location. Si è fatto avanti comunque il famosissimo insider Tydux che ha rivelato alcune indiscrezioni sull'evento. Sembra infatti che durante le presentazioni verrà svelato un RPG giapponese ad alto budget in esclusiva per PlayStation 4. Non sappiamo naturalmente nessun altro dettaglio. Sempre Tydux ha consigliato a tutti i fan di No Man's Sky di prepararsi perché ci sono molte sorprese in arrivo. Insomma, vi ricordiamo che sono soltanto voci di corridoio, però rimane il fatto che l'attesa per il PlayStation Experience si conferma altissima. Tencent Games ha lanciato un nuovo teaser site dedicato ad un progetto ancora sconosciuto per Xbox One. Secondo il portale A9VG.com potrebbe trattarsi di Infinity Blade. Lo ricorderete, la saga che ha debuttato con grandissimo successo solamente sulle piattaforme iOS di Apple. Anche così deve essere, non è ancora chiaro se potrebbe trattarsi di una collection dei capitoli già usciti su piattaforme mobile oppure di un capitolo completamente nuovo e dedicato alle console. Di sicuro ne sapremo di più durante il Tencent Games Carnival che si terrà, lo ricordiamo, il 29 novembre a Shanghai. Quindi rimaniamo con i riflettori puntati su quell'evento per saperne di più. Per quanto il Rational Games la software house nota per aver dato in Italia la saga di Bioshock, fosse ritenuta sull'orlo del fallimento anche a causa del licenziamento di 75 dipendenti e dell'abbandono tra l'altro del fondatore Ken Levine, ultimamente sono comparse offerte di lavoro relative proprio a questa software house. Si cercano programmatori esperti nell'utilizzo di Unreal Engine 3 e 4 e profondi conoscitori delle meccaniche multiplayer. Un nuovo titolo in arrivo? Beh, onestamente lo speriamo. Atlus e Spike Chunsoft hanno finalmente rivelato in via del tutto ufficiale Etrian Odyssey and the Mystery Dungeon. Uscirà in esclusiva su Nintendo 3DS il 5 marzo in Giappone, ancora non sappiamo nulla per un'eventuale data europea e naturalmente gli eventi che riguarderanno il gioco derivano sostanzialmente dai due franchise contenuti proprio nel titolo, ossia Etrian Odyssey e Mystery Dungeon. La Atlus ha rivelato inoltre di essere al lavoro su Etrian Odyssey 5, anche se ancora non sappiamo per quale piattaforma. Steam ha recentemente aggiornato la pagina dedicata a Game of Thrones, l'avventura grafica in sviluppo presso Telltale Games, permettendoci di scoprire così alcune interessanti informazioni. Innanzitutto ricordiamo che il gioco uscirà su PC, piattaforme iOS, vecchia e corrente generazione Sony e Microsoft. Per quanto riguarda le versioni PC, il mese d'arrivo previsto per il primo dei sei capitoli è dicembre e inoltre il prezzo complessivo è 30 dollari. Per tutte le altre piattaforme ancora invece non abbiamo informazioni relative a date e prezzi. Sega ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Total War Attila, lo ricordiamo, in arrivo esclusivamente su PC. La data scelta è il 17 febbraio e coloro che prenoteranno le copie potranno avere il primo DLC incluso. Ci sarà poi un'edizione speciale continente una biografia di Attila Luno, un poster del gioco e lo stesso DLC naturalmente incluso. Una notizia un po' diversa dal solito. Electronic Arts ha realizzato una copia speciale di NBA Live 15 includendo nella copertina Lauren Hill, una ragazza giocatrice di pallacanestro e malata terminale di cancro, la cui storia ha fatto il giro del mondo nelle ultime settimane. Il nostro pensiero va naturalmente alla ragazza e anche al bellissimo gesto di Electronic Arts. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo ad Ubisoft e a Far Cry 4. Il gioco sta infatti realizzando degli interessantissimi numeri di vendita. Nel Regno Unito si tratta del titolo del franchise ad aver venduto di più nel primo periodo. Le copie vendute finora sono circa per il 50% su PlayStation 4 per il 30% su Xbox One e il restante su vecchia generazione. Questo per quanto riguarda solamente la parte console. Davvero un ottimo risultato e ottimi numeri per lo sparatutto Open World che si conferma davvero un franchise molto solido nelle mani di Ubisoft. Il flop di questa settimana va invece ancora una volta a 343 Industries. Ve l'avevamo già segnalato la settimana scorsa ma i problemi di Halo The Master Chief Collection continuano ancora sia sull'online con lag e difficoltà ad entrare nelle partite sia con problemi molto più piccoli ma anche sul singolo giocatore. Dal canto nostro non possiamo che sperare che la situazione si risolva al più presto. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao!